Giovedì 26 agosto, bentrovati amiche e amici bianconeri, giornata importante e cruciale sulla nostra Juventus. Da un lato il destino europeo, perché questa sera si terranno i sorteggi della prossima Champions League e capiremo quale sarà il destino bianconero e giornata cruciale, perché lo saprete, ormai notizia di dominio pubblico, da ieri Jorge Mendes è sbarcato a Torino, si decide il futuro di Cristiano Ronaldo. Prima di cominciare però, qui sotto in descrizione vi lascio il link per scaricare l'applicazione OneFootball che io stesso utilizzo, un'applicazione leggera, gratuita, ricca di informazioni sul mondo del calcio, che vi dà la possibilità di selezionare la vostra squadra del cuore per avere tutte le informazioni che riguardano quest'ultima e soprattutto disponibile sia per chi ha dispositivi Android e sia per chi ha dispositivi iOS. Veniamo alla notizia di giornata, l'incontro tra il potente agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, sbarcato ieri a Torino con jet privato, che si terrà presumibilmente nel primo pomeriggio di quest'oggi con i vertici bianconeri, si deciderà il futuro di Cristiano Ronaldo. È chiaro che la presenza di Jorge Mendes, gli atteggiamenti di Cristiano Ronaldo, la consapevolezza che abbiamo noi che ve lo raccontiamo ormai da mesi di una richiesta avanzata da Cristiano Ronaldo al suo agente di cercare possibili destinazioni, perché la sua volontà era quella di lasciare Torino nel corso di questa sessione di calcio mercato, fanno sì che la presenza del potente agente faccia tornare fuori, nonostante manchino soltanto cinque giorni alla chiusura del calcio mercato, tanti dubbi sulla sua possibile permanenza in bianconero. Facciamo subito una precisazione, ovvero l'impatto a bilancio che Cristiano Ronaldo ha ancora su appunto il bilancio bianconero è circa 28 milioni di euro, per cui la Juventus per lasciare partire il proprio giocatore, il proprio tesserato, chiede non meno di quella cifra. Questo significa che se Jorge Mendes ha, come si racconta, in mano una proposta da parte del Manchester City, sia per il suo assistito per un contratto presumibilmente biennale, sia per i bianconeri, questa non possa essere del valore inferiore a 28 milioni di euro. Detto questo, è chiaro che io, come ho scritto sul mio profilo social Twitter, anzi mi invito a seguirmi anche lì, qualora già non lo faceste, a maggio, ancora se non addirittura ad aprile, cominciai a raccontarvi della mia sensazione che Cristiano Ronaldo nel corso di questa sessione di calcio mercato avrebbe lasciato Torino, perché ovviamente avevo ricevuto informazioni in merito alla sua volontà di procedere in tal senso, al fatto che aveva comunicato alla Juventus questa sua volontà e che la Juventus non si era detta contraria, fatto salvo che l'acquirente si fosse presentato a Torino per evitare ai bianconeri una minusvalenza. Ed è questo il motivo per il quale vi parlo di quei 28 milioni di euro, a chi sotto mi ha scritto ma come ne prende 31, ne prendiamo 28, non c'entra nulla, il discorso è relativo all'impatto, al valore che ha ancora bilancio Cristiano Ronaldo, la Juventus ovviamente non può registrare una minusvalenza. Sappiamo altresì che la Juventus nel corso del consiglio di amministrazione tenutosi ieri ha ottenuto quell'aumento di capitale di cui già in passato più volte avevamo parlato e sappiamo che Exor è disposta a riconoscere nell'immediato 75 milioni di euro come anticipo di questo aumento di capitale e quindi la domanda ci sorge spontanea. Siamo sicuri che la Juventus sarà colta così impreparata a fronte di un'eventuale partenza ormai probabile, mi sentirei di dire, di Cristiano Ronaldo? Ecco, è questo che dobbiamo cercare di capire, non è facile perché chiaramente dagli ambienti bianconeri non filtra nulla, tutto ciò che ruota intorno a Cristiano Ronaldo è sempre cosparso di un certo mistero, di poca chiarezza dal punto di vista dell'arrivare a capire cosa accadrà, però ci sono degli indizi che in questi giorni ci hanno portato a pensare che questa sua volontà di andare via da Torino non si sia placata pur non avendo avuto la possibilità di farlo prima e anzi in questi ultimi giorni sia stata data una forte accelerata affinché si possa trovare la quadra per accontentare la Juventus da un certo punto di vista e il giocatore soprattutto che vuole vedersi lontano da Torino nel corso di questa stagione che è appena iniziata. Quindi la Juventus non potrà presentarsi chiaramente nel proseguo della stagione senza un'alternativa. Quali possono essere le alternative? Detto che un eventuale incasso di quella cifra, 28 milioni, possono essere sommati, ma parliamo per supposizioni, non per certezza, a quelle 75 milioni circa di anticipo di quell'aumento di capitale, la Juventus avrebbe nelle mani la possibilità di realizzare un colpo importante. Ma questi colpi importanti ad esempio potrebbero rispondere a un nome che io stesso in passato vi ho accostato alla Juventus perché era il primo nome in cima alla lista di Massimiliano Allegri che è quello di Dusan Vlaovic. Però vi ho sempre detto che commisso la vedevo molto difficile che avrebbe fatto partire il suo assistito anche per una cifra intorno ai 60-70 milioni di euro nel corso di questa sessione di mercato, men che meno in Italia. Di conseguenza mi risulta difficile, ma nulla è escluso a fronte di una situazione di calcio mercato che spesso e volentieri ci riserva delle grandi sorprese. Però ragionando ci sono situazioni forse più abbordabili o forse diciamo più perseguibili, non lo so, lo vedremo. Certo è che se dovesse partire Cristiano Ronaldo la Juventus procederà con l'innesto di un altro attaccante. Potrebbe essere Moise Ken che oltretutto si avvale dell'addizione di club trained player, cioè di CTP, di giocatore cresciuto nel vivaio e quindi che non andrebbe ad occupare posti in lista Champions e sarebbe un ritorno. Giocatore mai definitivamente abbandonato dalle stanze bianconere. Altro nome potrebbe essere quello di Mauro Riccardi che è attualmente infortunato ma che è sempre stato un nome di alto gradimento nel territorio bianconero e quindi potrebbe essere anche lui un nome spendibile per un suo arrivo presumibilmente in prestito. E poi c'è il nome che in tanti fanno che è quello di Gabriel Jesus. Però su Gabriel Jesus mi sento di dire che è una pista, secondo il mio punto di vista, difficilmente percorribile. È extracomunitario, di conseguenza per l'arrivo di Gabriel Jesus, fatto salvo che non ci siano passaporti di cui io, e me ne scuserei eventualmente, non ne sia conoscenza, è extracomunitario e quindi per far sì, dopo che la Juventus ha inserito quest'anno Caio Horg, per far sì che possa arrivare Gabriel Jesus dovrebbe uscire un extracomunitario perché uno può arrivare, ne possono arrivare due, ma sul secondo ci deve essere contemporaneamente l'uscita di un extracomunitario già in rosa. E allora lì nascono i dubbi su McKennie. Io personalmente dubito che possa esserci un'operazione a cinque giorni dal termine del calciomercato che vada a coinvolgere Cristiano Ronaldo, Gabriel Jesus, McKennie e ovviamente l'inserimento di un altro centrocampista nella rosa bianconera. Si fa il nome di Whistle, io sono tutti i nomi sui quali onestamente nutro particolari e forti dubbi su McKennie. Mi sento così di dire che dal mio punto di vista la mia sensazione è che resterà in bianconero, nonostante quello che si sia detto in questi giorni. In ogni caso, per un possibile arrivo di Gabriel Jesus dovrebbe uscire Weston McKennie e questo mi sembra alquanto difficile. Quindi vediamo, l'uscita di Ronaldo è a questo punto possibile, lo sapremo penso molto presto perché l'incontro si terrà nelle prime ore del pomeriggio, non è escluso che noi ci si possa ritrovare per un altro video di giornata. Intanto vi lascio, vi auguro una buona giornata, sempre forza Juve e rimanete sintonizzati. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete like al video. Ciao! Iscrivetevi al mio canale YouTube, mettete like al video, seguitemi sui social che vedete qui accanto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!